Lavoro e tutele subito per le nostre imprese. Lo striscione è apparso stamani sulla facciata del Palazzo del Commercio di Lecco in Piazza Garibaldi, così nelle sedi di Confcommercio di Carlozio Corte e Merate. Nel giorno in cui è andata in scena la protesta Io resto aperto, che ha visto alcuni ristoratori sfidare il decreto e non abbassare la saracinesca facendo entrare i clienti, la presa di posizione dell'associazione di categoria è netta. Chi ha il compito di decidere lo faccia in fretta, ma noi siamo nella legalità, dice il presidente Antonio Peccati. Siamo convinti che bisogna tornare a lavorare, siamo convinti che bisogna dare aiuto a chi in questo momento ne ha veramente bisogno, che sono le nostre associazioni, i nostri imprenditori, ma bisogna farlo nella legalità. Quindi stabiliamo delle regole precise su cui si possa erogare il servizio di ristorazione, come lo si faceva quando le nostre imprese hanno comprato i Plaxigas, quando hanno rivisto gli spazi, quando hanno assunto le persone, gli stagionali, i cuochi, i camerieri. Cioè, ci sono coperti di costi grazie al primo finanziamento e poi la risposta a quale è stata è stata chiusa. È troppo semplice, è una risposta che toglie qualsiasi opportunità a chi ha voglia di lavorare, a chi è impegnato in questa attività, insomma. Hashtag io apro, quanti sono sul territorio lecchese gli esercizi pubblici che hanno aderito? Qual è il vostro sentore? Ma il sentore è che non siano molti e perlomeno noi non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro sulla manifestazione. Non credo che ci sia così tanta affluenza a questo tipo di manifestazione che li espone a ulteriori rischi. Perché il vostro no? Un no compatto da parte delle associazioni di categoria? È un no compatto perché, come dicevo prima, la manifestazione mette a rischio le imprese che vi partecipano, a rischio sanzionatorio ma anche a rischio penale. E questa è una cosa che non possiamo permettere che accada, soprattutto in un momento così delicato. e soprattutto perché questo tipo di manifestazione è fine a se stessa, non c'è nessun tipo di programma futuro, non c'è nessun tipo di visione futura sui sostegni, sugli aiuti che devono essere richiesti al governo.